Sì, è andata bene, nel senso che abbiamo discusso alcuni punti e ognuno ha espresso il proprio parere. Sapete anche che la cosa più importante era un po' quelle certe iniziative della UEFA che vanno discusse anche in Lega, così è stato. Quindi noi abbiamo espresso la nostra opinione. Qual è la vostra opinione, ce la dici? La nostra grande maggioranza è quella del rispetto un po' della valorizzazione del nostro campionato. E quindi attraverso anche i club che non possono essere pochi o sei. Tra l'altro come le altre leghe, Francia, Spagna? Mi sembra che c'è un atteggiamento generale verso questo tipo di iniziative. Quindi pensiamo che sia giusto così e poi lo vedremo. Poi modifica durante il percorso di un accordo futuro, potremo sempre farlo. Ma questo è un punto fisso sicuramente da parte nostra. Oggi qua avete parlato di altro. Però a lei chiedo, Presidente, sta iniziando a lavorare per il nuovo Genova dopo il finale che avete vissuto? Ma guarda, io ho già detto 50 mila volte, Genova è in vendita. Qualora dovesse esserci e spero che ci sia una trattativa seria, io lascio molto volentieri. anche con un pizzico di dispiacere per quello che è stata quest'annata. Però sono sto anche anch'io. Quindi lo dico con tutta tranquillità. Saranno offerte serie, ma serie, sicuramente non vuol dire ammontare, vuol dire di persone serie. Se ci sono persone serie, vengono avanti, risolvono velocemente. Però poi come sempre, se poi questo non avviene, qualcuno dovrà fare quello che è giusto che si faccia. Una società dirigerla anche contro magari l'opinione di alcuni tifosi. Quindi sarò costretto, perché fino a prova contraria è una società che ha uno solo azionista. E quindi come azionista dovrò decidere delle cose. Lei poi non ha mai mancato di seguire nel modo giusto il suo Genova. Si parla di un ritorno di Capo Zucca. Può tornare una pedina che può essere del nuovo Genova in attesa poi anche di questa cessione? No, no, sicuramente abbiamo già raggiunto un accordo. Lui era a darci una mano quest'anno. Ha un accordo per quest'anno. Se poi le cose andranno in una certa direzione faremo un percorso insieme. Andrea Zoli, presidente? Andrea Zoli era uno degli allenatori che a me piace. Ripeto, lui è vincolato da un contratto, così come altri allenatori. Dovranno prima risolvere i loro problemi e poi capire. Ripeto, noi siamo in attesa di cose che dovrebbero avere degli sviluppi abbastanza veloci. Vediamo. Con Brandelli però si va verso il divorzio, visto come sono andati questi mesi, come è stato il finale di campionato. Sì, ma forse anche per lui. Quindi abbiamo condiviso, credo che raggiungeremo un accordo così di reciproca soddisfazione. Questo finale di campionato è stato davvero durissimo, no, presidente? L'obiettivo è stato raggiunto, però è stato un finale veramente a cardiopalma. Sì, io mi rifiuto anche di vedere gli highlights delle interrempoli perché mi fanno ancora soffrire, no? Per com'è andata la partita. Per cui voglio dire, sicuramente ero abbastanza attembrato anche per certi tipi di campionato, ma per questo veramente non me lo aspettavo proprio. Grazie. Grazie.